Oro all'European Game di Karate a Minsk nel giugno del 2019 e il sogno olimpico solo rinviato per Silvia Semeraro, 24enne di faggiano, che neanche l'emergenza del coronavirus è riuscita a fermare. In questo periodo di attività sportiva ho montato un tatami nel mio salotto di casa e sto cercando di migliorare quegli aspetti che prima, avendo gare ogni settimana, non riuscivo in breve tempo a migliorare. Invece adesso con il mio coach Savio Loria, tecnico della Nazione Italiana Signores, a distanza tramite la nuova applicazione Zoom riusciamo a monitorare degli allenamenti e a migliorare quegli aspetti che adesso avendo un lungo periodo di inattività possiamo migliorarci. Il rinvio di un anno dei giochi olimpici di Tokyo permetterà alla Semeraro di migliorarsi ulteriormente e puntare alla qualificazione olimpica. La Belva, così come soprannominata nell'ambiente, è pronta ad affondare la zampata decisiva. Non avendo gare imminenti ho tanti obiettivi perché non solo quelli di migliorarmi fisicamente, quindi aspetti tecnici tattici che sto facendo già con il mio allenatore, ci sono anche aspetti psicologici che poi faranno la differenza in campo. E quindi per ottenere il passo olimpico bisogna vedere se ci faranno fare altre gare di qualificazione o se ci sarà direttamente la gara secca l'anno prossimo. In tutto questo tempo io per arrivare al meglio la gara secca dovrò migliorare tutto ciò che posso migliorare in questo tempo, tanto ce n'è tanto.